Vi voglio confessare una cosa, vera tra l'altro, è socchezza però, io da un po' di tempo non so più come vestirmi, so che non è un problema, però è un fastidio quotidiano e poi mi pare di essere l'unico, gli altri, no dice, io alla mattina non è che mi vesto, pesco a caso qualsiasi cosa, purché sia comodo. La gente dice che non ci bada, gli uomini poi tutti pescano a caso, è già perché l'uomo non può, capisci, c'ha un suo rigore, anche allo specchio non si guarda mai, uno che attira di nascosto e via, un po' trasandato, spettinato, spettinato bene però, effettivamente bisogna dirlo, l'aspetto lo definisce. Se uno porta la giacca e la cravatta è rassicurante, ti viene subito in mente l'ufficio, la banca, l'iva, le bolle d'accompagnamento, insomma è uno regolare. Se però ai piedi porta sandali afro-cubani, attenzione, può essere già un look, ma a parte questo, c'è della gente che ha trovato un modo di portare la giacca e la cravatta che non è così tipicizzante. Io se gli metto la giacca e la cravatta, mi sento subito in banca, e se gli metto i sandali, sono un impiegato di banca con i sandali afro-cubani, non c'è niente da fare. Per me vestirmi è diventato difficilissimo, io vorrei vestirmi normale, ecco il normale non c'è. Magari una maglia, un po' di pantaloni, appunto uno non ci va, c'è modo e modo di non badarsi, perché con una maglia targata tacchini, sei un tacchini, una mania, targhette, righe, taschini bordati, cervi, ochette, serpentelli, armadilli, coccodrillini, normale non c'è. Magari per i pantaloni è più facile, beh sì, i pantaloni ce n'è una gamma infinita, il jeans, insomma, però è un po' troppo il jeans. Con i jeans uno si vede che ha i jeans, a me piacerebbero di quel tipo lì, però un po' meno, ecco. E poi la linea, il taglio, larghi di culo, stretti di culo, alti di vita, bassi di vita, larghi di coscia, corti di gamba, stretti, tutto schiacciato, stretti, stretti, a zampa. Ma io ne vorrei un tipo normale, che come cominciano, finiscono, non li fanno, troppo stravaganti. Adesso devo dire, le fanno un tipo che quasi ci siamo, mi convince perché, come dire, parte giusto, no? Continua bene, poi di colpo... A questo punto metto gli stivali e siamo a cavallo. Ecco, forse se uno va a cavallo in via Manzoni lo nota. Ecco, per uno come me che vuole essere dormato non è possibile. Ma sì, perché per me vestirsi vuol dire sentirsi giusti, è un problema più intimo, ecco. Quando uno vuole essere in sintonia con le cose che mette, con gli indumenti, non sa da che parte cominciare, sai. Uno la mattina si alza, no? In pigiama. Ecco, ad esempio, sono un tipo da pigiama e io no. Come non importa? Uno si alza, nudo. Ma le donne piacciono a quelli che tornano nudi. Chissà se è vero. Io mi alzo nudo, cerco le mutande. Uno straccettino. Due o tre centimetri di stoffa, che con l'elastico... Il problema comincia già dalle mutande, capisci? Bisogna farci uno studio. A quelli piccolini sono tremende. Coprono giusto, giusto quello che devono coprire, no? Poi vengono su sempre più strette e finiscono ai lati con un filino che è vero allunga la gamba. Ma non si capisce perché io devo avere gli stessi problemi di una ballerina. Posso neanche mettermi in mutandoni, però... Quelli lunghi, dai, quelli dei colonnetti. Adesso non le fanno più così, non le fanno a righine, a quadrettini, a fiorellini. Neanche brutti, devo dire. Però si notano, dai, si notano troppo. È come se uno si fosse preoccupato prima... Non si sa mai... Di essere elegante con giù i pantaloni, dai. Ma è possibile che non si riesca a trovare un paio di slip che non venga in mente niente, eh? Che una donna non possa dire... Ecco, quello lì è così. È come quelli che portano quelle mutande lì. Bisognerebbe non spogliarsi mai. Certo che anche smettere di fare l'amore, perché non si è trovato la mutanda giù. Non è previsto neanche dalla chiesa cattolica. Non so come vestirmi, non so cosa mettere. E pensare che c'è della gente che può fare di tutto. Può mettersi le cose più assurde e va sempre bene. E per forza, loro non si vestono mica per vestirsi, no. Hanno inventato... Il look. Il look è... Il look è... È praticamente come se fosse sempre carnevale, no? Cavallerizi, giocatori di rugby, vedo venere, cowboy, finti cechi, arancioni, david bovi, eh? Tu sei lì, magari devi firmare un contratto, una cosa che è seria, no? Arriva il commercialista. È vestito da pirata. Che se ne è un pirata? È normale, c'è il suo look. Mamma mia. Mamma mia cosa non fa la gente per farsi notare, eh? Però io non credo sia soltanto un fatto di esibizione. Credo anche che sia un bisogno più intimo, legittimo. Il bisogno di sentirsi, almeno in qualche cosa, unici. È come se avessimo la sensazione di non avere più niente che ci distingua. La paura di essere tutti uguali, in tanti. È il numero che ci splenta, eh? Ma forse... Forse abbiamo creato ancora più confusione. La massa non è un fatto numerico. Si può essere milioni e milioni, anche simili, e non essere massa, rimanere persone. Io credo che questo sia possibile. E ci può essere invece una persona sola che è già massa. Non è il numero. È la testa. È la testa.